I testi narrativi si distinguono dagli altri testi in quanto raccontano una storia. Il racconto è una narrazione breve di una vicenda che può essere reale, verosimile o immaginaria, dunque fantastica. Che cos'è un testo? È un qualsiasi messaggio scritto orale dotato di senso compiuto, formulato correttamente e con lo scopo di comunicare qualcosa a qualcuno. Possiamo dividere i testi in due grandi categorie, i testi letterari come i testi narrativi, i testi poetici e i testi teatrali e i testi non letterari come discorsi politici, articoli di giornale e saggi. Il testo narrativo è un tipo di testo in cui un narratore racconta una storia. Il testo narrativo letterario comprende vari generi, il mito, la favola, la fiaba, il racconto e il romanzo, cioè tutti quei modelli di testo in cui vi è una trama. La narrazione è quindi la rappresentazione di eventi reali o immaginari che si snodano lungo un insieme di situazioni legate tra loro da un rapporto di causa-effetto. Chi è il narratore? Il narratore è una figura importante del testo narrativo. È colui che narra la vicenda e può essere interno o esterno. Si parla di narratore interno quando esso coincide con uno dei personaggi, mentre si parla di narratore esterno quando non è un personaggio, bensì un terzo estraneo alla storia che conosce tutti i fatti della storia stessa. In questo caso appunto viene anche definito narratore onnisciente. Il testo narrativo si compone di una struttura, ossia una sequenza di avvenimenti così articolata. Una situazione iniziale, una rottura dell'equilibrio iniziale, l'evoluzione della vicenda in senso positivo o negativo, la ricomposizione di un equilibrio diverso da quello iniziale e una situazione finale. Il tempo e l'insieme delle indicazioni cronologiche presenti in una storia indica quando e in quanto tempo sono avvenute le vicende narrate. Può essere determinato se si tratta, se la storia è ambientata in un momento storico preciso, indeterminato quando non vengono fornite le indicazioni temporali in modo dettagliato. C'era una volta è un esempio di tempo indeterminato. Nel 1820 è l'esempio di un tempo determinato, cioè il momento storico preciso. Il luogo riguarda l'ambientazione in cui vengono narrati i fatti. Il luogo può essere reale, cioè in una località determinata, per dire, in Sardegna avvenne questo determinato avvenimento, o fantastico, ad esempio, nell'isola che non c'è, cioè un luogo immaginario che non appartiene alla realtà. I personaggi sono le persone, gli animali o le cose che compiono le azioni narrate. Attraverso i loro pensieri, le loro azioni e le loro emozioni si sviluppa la storia. I personaggi, in base al loro ruolo, si distinguono in personaggi principali e secondari. E tra i personaggi c'è anche l'antagonista, cioè che è colui che intralcia il protagonista, l'aiutante, il personaggio che aiuta il protagonista, e l'oppositore, il personaggio alleato dell'antagonista. Le sequenze sono delle breve unità narrative in cui può essere suddiviso ogni testo narrativo. Servono per sviluppare la trama. Abbiamo le sequenze narrative, descrittive e riflessive. Le sequenze narrative narrano le azioni compiute dai vari personaggi. Le sequenze descrittive descrivono un ambiente, un paesaggio o un personaggio. Le sequenze riflessive esprimono le riflessioni, gli stati d'animo, i sentimenti dei personaggi o del narratore. E poi le sequenze dialogate, che riportano i dialoghi tra i vari personaggi. Questa è la mappa riassuntiva del testo narrativo, che da un punto di vista della struttura si articola in inizio, sviluppo e conclusione, che ha come scopo di raccontare una serie di avvenimenti attraverso dei personaggi che agiscono, attraverso dei fatti, cioè una successione di eventi che seguono un ordine cronologico e in cui possono essere presenti dei flashback, e attraverso i luoghi dove si svolgono i fatti. Il racconto può essere con un'ambientazione realistica, con un'ambientazione fantastica, e tra le tipologie dei testi narrativi fantastici ricordiamo la favola, con protagonisti, animali o piante, la fiaba, che contiene anche elementi magici, la leggenda, che spiega le usanze degli uomini e dei fatti naturali, il mito, che spiega l'origine dell'universo, della terra e degli esseri umani. Il testo narrativo può essere diviso, suddiviso in sequenze, cioè parti del racconto che aiutano a riassumerlo, è scritto da un autore, in prima persona, chi racconta nel caso in cui chi racconti è uno dei personaggi, in terza persona nel caso in cui colui che racconta non è uno dei personaggi.